Eccoci qua, Lella Bertinotti, Fausto Bertinotti, questa che è Alba Varietti, ma come mai? Strano, Alba Varietti invitata, incredibile, una cosa strana, poi le testimoni della sposa di Valeria Maria erano Ivana Trump, poi c'era Anna Tatangelo, la Cucinotta, insomma, amiche acqua e sapone, diciamo così, erano proprio tutti acqua e sapone, ieri c'era Sfarzo, su Sfarzo, su Sfarzo, tant'è che il prete alla fine della funzione ha detto, rendiamo grazie a Dior, rendiamo grazie a Dior ragazzi!